Buongiorno, ben trovati al nuovo appuntamento. Con Mattino 6, giovedì 22 ottobre 2015, partiamo con il Santo del Giorno, un santo che tutti conoscono di recente beatificazione, San Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, la sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, vasti campi di cultura, civiltà e sviluppo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo lui lo sa. Questa è la frase più famosa di Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla, santificato pochi anni fa. E' nato a Badovice in Polonia il 18 maggio del 1920, ultimo di tre figli, ha avuto una vita molto intensa prima di intraprendere la carriera religiosa. Ha vissuto la tragedia della seconda guerra mondiale e nel 1944, durante la rivolta di Varsavia, è sfuggito alla deportazione. Giovane prete di eccellenti promesse è mandato a Roma poi a coronare con la laurea un corso di studi profittevole. Due anni dopo, nel 1948, consegue il dottorato in teologia e poi il pontificato dopo la morte di Paolo VI nell'agosto del 1978. Partecipa al conclave che elegge a succedergli Albino Luciani, patriarca di Venezia, che prende il nome di Giovanni Paolo II. 33, come si ricorderà, i giorni di pontificato di Giovanni Paolo I e poi l'inizio del lungo pontificato dopo un nuovo conclave di Giovanni Paolo II, che è stato sul soglio di Pietro per tanti anni e è stato un papato molto difficile quello di Giovanni Paolo II, proprio per i fatti che si sono susseguiti in questi anni. Si ricorderà anche l'attentato di cui è rimasto vittima, ferito in maniera grave, Giovanni Paolo II, che viene ricordato proprio oggi dalla Chiesa Cattolica San Giovanni Paolo II. Allora possiamo aprire la nostra consueta rassegna stampa, partendo dai nostri quotidiani, dalle prime pagine dei nostri giornali. Ovviamente grande spazio alla cronaca regionale, poi ovviamente ci sarà anche la cronaca nazionale. Ovviamente apriamo con il centro per andare a vedere insieme le prime pagine, le pagine delle edizioni regionali. Partiamo dal centro, faremo tra qualche istante con il centro edizione di Pescara, per andare a vedere quali sono i titoli dell'edizione adriatica del quotidiano d'Abruzzo, che vi dico subito si apre con una notizia di cronaca accaduta proprio nelle ultime ore nel capoluogo adriatico. Ecco qui la prima pagina del centro edizione di Pescara. Imprenditore rapinato in casa, Spoltore e due banditi sorprendono nel sonno Giustino Brandimarte e sua moglie. Mi hanno puntato il cacciavite alla gola e i pescaresi corrono ad armarsi. Tra l'altro questa vicenda fa venire alla mente quello che è accaduto poche ore fa, poche ore prima di questo fatto di Spoltore in Lombardia, dove un uomo ha ucciso un ladro che si era introdotto nella sua abitazione. E poi le altre notizie, la fotonotizia riguarda l'addio alla vicepreside Di Marco, gli studenti del Dascanio scrivono alla professoressa scomparsa, vedete nelle immagini l'ultimo saluto alla vicepreside del Dascanio. E poi più in basso, mare inquina che a monte, l'arta rivela con i batteri alle stelle all'ingresso del fiume a Pescara. Ieri c'è stata questa conferenza stampa di cui parleremo in maniera dettagliata nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Poi nelle cronache stoppa la protesta alberghiero dalla regione 450 mila euro, poi in via De Gasperi mercato etnico almeno quattro mesi per il trasloco. Poi Montesilvano, Maragno offre una poltrona alla Musa, consigliere comunale sempre del centro-destra. Allora lasciamo il centro edizione di Pescara, prima pagina per andare a vedere invece la prima pagina del centro edizione di Chieti, Lanciano, basto anche in questo caso i titoli principali. I bimbi lasciano anche il papà a Colle di Mezzo, mamma incinta morte, i primi esami non spiegano il decesso improvviso. La Salma torna oggi in Romania dove andranno a stare i tre figli, il padre resta qui. Questa tragedia avvenuta a Colle di Mezzo, questa donna in attesa di un altro figlio è improvvisamente deceduta. E poi solidarietà alle popolazioni povere, i volontari della Caritas raccontano la vita in Kenya, in questa foto alcuni dei volontari che hanno lavorato nel paese africano. Poi le cronache, vertice sugli esuberi carichieti accordo nella notte e poi strada riaperta dopo sei mesi dalla Frana via Canale a Bucchianico in provincia di Chieti. Poi guerra in Ateneo, le squadre del Cuschieti fuori dai giochi. E poi a Vasto, vedete il titolo sotto la fotonotizia, smaschera il finto avvocato, Vasto, anziana, sventa il raggiro ordito per spillarle 4.000 euro. Passiamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo, anche in questo caso andiamo a vedere quali sono i titoli principali che poi ritroveremo nelle pagine interne. Il titolo più importante riguarda il piano per salvare di Gennaro il gruppo edile di Tortoreto con 62 milioni di debiti ammesso al concordato preventivo al grosso dei creditori spetta una percentuale di soddisfazione del 9%. E poi Teramo, il cantiere lungo il corso toglie spazio ai pedoni, commercianti furiosi e poi psicosi, vaccinazioni in calo, i dati della ASL sono crollate quelle per le malattie dei bambini. E poi nelle cronache, morte tra i vigneti, assolto l'imprenditore Strappelli e poi caserma, ora il progetto si complica, parliamo della nuova caserma dei carabinieri di Giuliano, ma poi a Roseto è in vendita l'edificio delle poste. Chiudiamo per quanto riguarda le edizioni del centro con l'ultima, quella di L'Aquila, Vezzano, Sulmona. Poi passeremo al messaggero per vedere la prima pagina del quotidiano romano e poi andremo a vedere anche qualche titolo di cronaca nazionale. Prima pagina del centro dell'Aquila, ferisce a coltellate il coinquilino, Sulmona, ex compagni di Celle, vanno ad abitare insieme, lite scoppiata nell'appartamento, uno finisce in ospedale in gravi condizioni, l'altro arrestato per tentato, omicidio. E poi l'accoglienza della chiesa marsicana, il vescovo di Avezzano, Pietro Santoro, che vedete nella foto, ospita gratis una famiglia di migranti. E poi il DNA conferma e Giuseppe Sulmona e del giovane Colabrese, il corpo trovato in Liguria, drammatica svolta nella scomparsa di Giuseppe Colabrese, il DNA confermato e che il corpo ritrovato alcuni giorni fa in Liguria e del giovane Sulmonese si indaga per omicidio. E poi le cronache post-sisma, finte fatture sui lavori extra nei cantieri, siamo all'Aquila, sempre all'Aquila, niente caldaia, il comune è al freddo. E poi medici di base al lavoro, anche il sabato. Allora lasciamo il centro, le quattro edizioni del centro, le prime pagine per passare al messaggero, per andare a vedere tra qualche istante i titoli principali del quotidiano romano. Ovviamente partendo dalla prima pagina per poi andare a vedere insieme le pagine interne. Prima pagina del messaggero, non è malato, veleni sul Papa. Il Vaticano smentisce le indiscrezioni su un presunto tumore benigno. Sta benissimo. L'osservatore romano, polverone manipolatorio. Il giallo dell'incontro con un medico giapponese proprio ieri. Si erano diffuse queste voci dopo una notizia pubblicata sul quotidiano nazionale di un presunto tumore in fase leggera di cui soffrirebbe il Papa. Notizia che è stata smentita da fonti vaticane. E poi la polemica, Hitler non voleva la Shoah, Israele bufera su Netanyahu per queste dichiarazioni. E poi cronaca politica nazionale, Renzi sul contante, avanti tutte, stop, aumenti sulle tasse locali. Questi alcuni dei titoli. Andiamo nelle pagine interne. Giallo sulla malattia di Papa Francesco, una visita c'è stata. No, caso manipolato. Lo avrebbe visitato il neurochirurgo giapponese Fukushima, volato da San Rossore, l'ira del Vaticano. Falso, un polverone. Il medico tra autosportive, giri del mondo e un'inchiesta sulle liste d'attesa. Truccata, si parla del medico giapponese. Poi Francesco legge il giornale e dice Ma se io sto benissimo. Sinodo, riforme e carte vitilix. Così Bergoglio è finito sotto attacco. Beleni e intrighi. Oltre Tevere, l'offensiva degli ultraconservatori contro il Pontefice. Il Papa custodisce in una cassetta ricevuta da Ratzinger i segreti su una parte della Curia. Dunque potrebbero esserci anche questi scontri sul Sinodo a rendere ancora più interessante questa notizia, nel senso che sono arrivate le smentite del caso. Ma come abbiamo visto, una visita con un medico giapponese ci sarebbe stata, ma il Vaticano smentisce. Pagina 4, Sardegna, spese pazze, barraccio a processo. Innocente Malascio, sottosegretario della Cultura, a cui era stato contestato il reato di peculato. Per 81 mila euro si dimette Renzi ed il PD, un gesto apprezzabile. E poi l'accordo, quando fu nominata, se c'è il processo devi dimetterti. E poi Toghe in politica, stretta del Consiglio Superiore della Magistratura. Servono regole più rigide. Vedete nella foto il vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini. De Magistris assolto, resta sindaco di Napoli. Andiamo ancora avanti. Renzi sul contante, non si cambia, via migliaia di dirigenti statali. Manovra, il Premier in TV, pronti anche a mettere la fiducia. Spiraglio su Verdini nella maggioranza. Ma poi si corregge. Ancora avanti, stop aumenti delle tasse locali. L'IVA può salire dal 24% nel 2017. La manovra ancora attesa al Senato, ma si vanno precisando le cifre in bilico. Per i contratti pubblici, 300 milioni, di cui 75 alla Polizia Turnover, al 25%. E poi siamo a Roma, l'ultima trappola di Marino. Il PD, eviteremo voto in aula. Il sindaco forza la mano e punta a farsi sfiduciare. Cattoi attacca. La crisi è politica. Il partito dice no. La conta è un tranello. La carta delle dimissioni dei consiglieri. E poi spunta la proroga per Orfini. Alto là della sinistra. Democratto Orfini, che è un uomo di punta del PD, potrebbe lasciare il suo incarico di commissario del PD romano. E poi, caso scontrini, la procura sentirà i dipendenti del comune. Riformarai, primo sì, più poteri al direttore generale. Nuovo CDA, sette membri. Il testo torna al Senato. Il governo vuole il via libera definitivo entro novembre. Movimento 5 Stelle, Democratici e Forza Italia, pronti a spartirsi le nomine, dicono i pentastellati. E poi stipendi, nomine e canone. Ecco tutti i rebus da risolvere. Proseguiamo. Giubileo, scatta l'allerta. Orò il terrorismo minaccia anche l'Italia. Vertice del Consiglio Supremo di Difesa. L'evento possibile teatro di attentati. Anche le forze armate si adeguano ai rischi. E poi politica estera. Assad vola da Putin. Blitz a sorpresa, pronti a collaborare per la pace. La stretta di mano a Mosca tra il presidente Putin e quello siriano. Assad. E poi andiamo avanti. Hitler non voleva lo sterminio Israele. Bufera sul primo ministro Netanyahu. Polemica per il discorso del premier. Fu il gran mufti a suggerirglielo. Ira dei palestinesi e del centro Weisenthal. La Germania, responsabilità nostre. E poi c'è l'intervista allo storico Gian Enrico Rusconi che dice è qualcosa di più di una gaff, ma la ricostruzione è plausibile. Ancora avanti. Visite interventi taroccati in 14 arrestati all'israelitico Roma. Medici dirigenti ed operatori accusati di falsificare le cartelle per gonfiare i rimborsi ai domiciliari. Anche il direttore generale Mastrapasqua, già capo dell'Inps, obbligo di firma. Per altri tre, dunque questa inchiesta che riguarda l'ospedale israelitico, ecco gli ispettori. MoFamo, Cinecittà, queste le intercettazioni. Poi in basso questa notizia che ha scosso tanti, perché è scomparsa Maria Grazia Capulli, tra i volti più amati e più noti del Tg2, a 55 anni, la giornalista del Tg2 è scomparsa a causa di un male. Aveva lavorato fino a pochi giorni fa. E poi siamo alle cronache. Ladro ucciso a Vaprio. Niente sangue in casa. Sparo partito dall'alto. Il pensionato indagato. Gli investigatori dicono colpo sulle scale esterne. Lui ribadisce, ho sparato in cucina. Renzi, errore. Farne un eroe. E poi c'è la vicenda dell'imprenditore sparito a Macheno, in provincia di Brescia. Bozzoli, la moglie, scresi col fratello. L'imprenditore che non si trova da diversi giorni. E poi l'economia Ferrari vola a Wall Street fino a 60 dollari. Quotazione con il debutto boom del cavallino che poi si stabilizza. A quota 55 dollari, il 5,7% in più rispetto al prezzo del collocamento. Dunque nella borsa americana, grandi numeri per la Ferrari. Marchionne, ci sono grandi opportunità per l'azienda di Maranello. Ora si può capire il vero valore del marchio. E Fiat in borsa paga l'eccesso di prudenza. Meno 5,3%. E poi Tegola per la Toyota. Richiamate indietro oltre 6 milioni di auto. Per la precisione, 6 milioni e mezzo. Poi si parla di banche. BPM Carige si accelera la fusione. C'è il nodo dell'amministratore delegato. E poi Spoleto, l'assegno falso. E la proposta patacca. Ecco le bugie contenute nell'esposto. Che ha innescato l'indagine su Visco. Che è il governatore della Banca d'Italia. Lasciamo allora la cronaca nazionale ed economica dal messaggero. Passiamo al centro, anche qui, per andare a vedere le pagine interne del quotidiano d'Abruzzo. Pagine di cronaca nazionale. Tra poco vi preannuncio, come sempre, l'appuntamento con il meteo. Chiesa sotto sciocche per il Vaticano. C'è il complotto contro il Papa. Santa sede, niente tumore. Bergoglio è sano, intento manipolatorio durante il sinodo. E poi c'è il retroscena e la sospetta tempistica in questo articolo. Vedete nella foto grande Papa Bergoglio. Poi in alto padre Federico Lombardi, che è il direttore della sala stampa vaticana, che ha smentito categoricamente queste indiscrezioni. E poi governo. La manovra sul tetto contanti. Renzi non arretra. Pronto alla fiducia. Poi spese pazze in Sardegna. Barracciu si dimette. In basso legge Severino. De Magistris assolto. Resta sindaco, sindaco di Napoli. Milano, inchiesta e polemiche. Ladro ucciso, due versioni sulle scale. Il colpo fatale per gli inquirenti. L'albanese è morto fuori dalla villetta. Il pensionato dice era entrato. Nessuna effrazione, niente sangue in casa. La vittima impugnava solo una torcia. Legittima difesa. Ora si cambia. Renzi, sbagliato farne un eroe. La norma è da cambiare, ma con il buonsenso. E poi giubileo. E allarme rosso, minaccia terrorismo. Siamo a Roma. I timori alla riunione del Consiglio Supremo di difesa con Mattarella e Renzi. Nessun segnale specifico, ma siamo nel mirino. Afghanistan, rinvio a novembre. Poi queste dichiarazioni che stanno creando grandi polemiche. Del primo ministro, del premier israeliano, Netanyahu, che ha detto che Hitler non voleva la Shoah. E poi ancora avanti, l'albero della vita sopravvive ad Expo con Palazzo Italia. I simboli di Milano 2015 non si spengono dopo il 31 ottobre, giorno di chiusura dell'Expo. Resta anche il padiglione zero. Riapriranno in primavera. E poi Iara, processo sulla morte della giovanissima in provincia di Bergamo. Ecco come ho scoperto Bossetti al processo la testimonianza del comandante delle Riste di Parma. E poi mafia, giudice e insulte. I figli di Borsellino loro dicono siamo senza parole. La Saguto sotto inchiesta si difende. E poi c'è questa notizia che riguarda ancora le toghe. Perché il CSM dice stop ai magistrati in politica. Andiamo ancora avanti. C'è questa pagina che riguarda il canone TV. Perché si potrà pagare a rate. Sei rate da 16,66 euro inserite nella bolletta. Allora prima di passare al meteo abbiamo ancora un paio di minuti per vedere le pagine di cronaca regionale. Partiamo proprio dal centro. Si parla di banche e fondazioni. I giochi si fanno adesso. A Teramo spunta l'idea di una fusione tra banche di credito cooperativo col sostegno di fondazione Tercas a Pescara. E Pescara-Abruzzo potrebbe affiancare la BCC di Roma nel salvataggio di Carichieti. Poi cambiando argomento via al primo simulatore navale in Europa. Accordo tra Edison e Istituto Montani per la formazione marittima e la tutela ambientale. Poi Jobact congedo parentale di maternità. Le novità da sapere. Poi Sulmona la lite sui rifiuti va davanti ai giudici dell'Unione Europea. Allora lasciamo le pagine del centro di cronaca regionale. Vediamo brevemente le due del messaggero. E poi passeremo ovviamente al meteo con il nostro Giovanni De Palma. Ecco la prima pagina del messaggero cronaca regionale. Il mare è ancora inquinato. Siamo a Pescara come prima più di prima. Dopo i problemi dell'estate la situazione non è cambiata. La sentenza valori superiori ai limiti in tutti i punti esaminati sempre per colpa del fiume. E poi siamo all'Aquila. Trifoggi vice sindaco. Chi lucra sul sisma è peggio di quelli che ridevano. E poi c'è questa fotonotizia. Pescara ai due volti della notte. Vedete la zona in una delle zone della città dove ci sono persone che dormono all'aperto. A due passi. Dalla Movida e dunque dalla zona del divertimento. E poi l'altra pagina. Provincia e c'è l'accordo per i trasferimenti di personale alla regione. Poi tua lunedì la firma sui contratti di secondo livello. Sono le 7 e 21 minuti. Possiamo dunque parlare del tempo del meteo con il nostro Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora abbiamo letto, leggevo questa mattina sul tuo profilo Facebook di precipitazioni record in Sicilia. Se non sbaglio ad Acireale. Dunque grande maltempo purtroppo ancora una volta in Sicilia sulle isole. Possiamo dire fortunatamente che dalle nostre parti le cose vanno decisamente meglio. Sì Paolo, decisamente meglio perché in Sicilia è piovuto davvero tanto. Hai citato Cireale dove fino alla mezzanotte di ieri in 24 ore sono caduti oltre 400 mm di pioggia. Un valore eccezionale se consideriamo il fatto che qui in Riva al Mare le precipitazioni dal primo di gennaio ad oggi sono arrivate a 511 mm. Quindi ciò rende l'idea di quello che è potuto cadere lì proprio in terra siciliana. E sono precipitazioni che purtroppo creano e possono creare situazioni di estremo pericolo per la popolazione. Per fortuna non ci sono state vittime. Almeno questo è quello che emerge dalle ultime notizie. Però il maltempo si sposta verso le restanti regioni meridionali. Quindi Campania, Basilica e Puglia. La nostra regione sarà al margine tra una situazione di bel tempo che è attesa sulle regioni settentrionali e il maltempo che invece è in atto sul meridione. Quindi la nostra regione risentirà di un afflusso di correnti fredde provenienti dai vicini Balcani che sta dando luogo a una diminuzione delle temperature. Abbiamo già annunciato questo particolare, la diminuzione delle temperature che continuerà a manifestarsi nelle prossime ore sulla nostra regione così come gli annumolamenti più compatti però sia nel Pescarese, nel Chietino e nell'Alto Sangro dove ci potranno essere anche delle precipitazioni generalmente di debole o moderata intensità comunque perché il grosso dei fenomeni, il grosso del maltempo interesserà, continuerà ad interessare soprattutto Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle prossime ore. Con la diminuzione delle temperature è tornata la neve sui nostri rilievi al di sopra dei 1.600-1.700 metri. Paolo sta nevicando e noi abbiamo appena pubblicato l'immagine del rifugio Pomiglio imbiancato dalla neve. Una situazione questa con temperatura al di sotto delle medie stagionali che però tenderà poi a migliorare. Questa figura depressionaria che staziona ancora al meridione tenderà gradualmente a partire da domani a spostarsi verso la Grecia e a favorire un progressivo miglioramento del tempo. Quindi questa è una buona notizia, un miglioramento che si concretizzerà soprattutto nella seconda parte della giornata di venerdì e ancora più nel corso del fine settimana. Quando un promontorio di alta pressione che è previsto in rinforzo sul Mediterraneo occidentale si adagirà sulla nostra penisola e favorirà non solo il miglioramento del tempo ma anche una ripresa delle temperature perché farà arrivare masse d'aria più temperata dei quadranti meridionali. Quindi le temperature si addolciranno rispetto ai valori che si registrano in queste ultime ore. Quindi ancora un po' di pazienza, ancora un po' di instabilità, un po' di freddo con neve sui rilievi ma da domani assisteremo a un progressivo miglioramento del tempo che poi si concretizzerà soprattutto nel corso del fine settimana. Paolo. Dunque buone notizie dal nostro Giovanni De Palma, dunque ancora un po' di pazienza e poi ci sarà un aumento delle temperature, un miglioramento del tempo. Io ti ringrazio Giovanni, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ovviamente con te l'appuntamento è sempre fissato per domani nel corso di mattino 6 alle 7.20. Grazie e buona giornata. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Per restare sempre informati, gli strumenti ormai li conoscete bene, il sito www.abruzzometeo.org diretto proprio dal nostro meteorologo Giovanni De Palma con tutte le informazioni che riguardano il tempo nella nostra regione, i live con le foto scattate nelle varie località e nelle varie città della nostra regione e poi la pagina Facebook del nostro Giovanni De Palma che potete utilizzare anche per interagire con il nostro meteorologo e dunque chiedere, fare domande proprio sull'evoluzione del tempo nella nostra regione. Allora prima di fermarci per qualche istante abbiamo il tempo per iniziare a leggere le pagine della cronaca provinciale. Partiamo dal centro, cronaca di Pescara, cronaca in questo caso Cacciavite puntato alla gola, spoltore all'imprenditore Brantimarte svegliato e rapinato in casa da due banditi, indagano i carabinieri e poi a pagina 15 nelle case dei pescaresi 878 armi, boom degli spray al peperoncino dunque chi può si adegua in un certo senso. Come vedete ci sono quasi mille pescaresi che in casa posseggono armi in maniera ovviamente legale perché questi sono i dati forniti dalla Questura. E poi ancora avanti si parla del boom delle truffe su internet, annunci falsi, 300 denunce in sei mesi, oggetti in vendita a prezzi stracciati, il popolo della rete a bocca, ecco come i truffatori fanno sparire i soldi sul web. Poi c'è l'intervista anche al dirigente della Polizia Postale Abruzzo di Pescara di Sabetta Narciso che dice non ricaricate le carte senza garanzia. E poi una notizia che riguarda un salvataggio operato da un infermiere del 118 via telefono. Una donna stava per essere soffocata da una cinodua e è stata salvata proprio dall'infermiere del 118 che via telefono ha dato dei consigli ai familiari per far sì che questa donna potesse riuscire ad espellere il corpo estraneo che la stava per soffocare. Dunque un salvataggio davvero importante via telefono, ripetiamo, da parte di un operatore del 118. E siamo all'inquinamento del mare, un regalo di chi sta a monte, questa notizia che riguarda i dati sullo stato di salute del fiume e del mare di Pescara, ne parleremo subito dopo la pausa andando a vedere il servizio che abbiamo registrato ieri, ma ci fermiamo per qualche istante e torneremo in studio tra pochissimo. Seconda parte di mattino 6, dicevamo dei dati forniti dal Comune di Pescara, dalla Direzione Marittima e dall'Arta, proprio sullo stato di salute del mare pescarese e del fiume, l'inquinamento del mare è un regalo di chi sta a monte, ne ha parlato ieri in conferenza stampa il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, che andiamo ad ascoltare. Presentati questa mattina i dati sulla salute del mare e del fiume di Pescara, numeri che evidenziano uno stato inquinante delle acque nei vari punti di prelevamento e campionamento. Questi sono i primi dati resi noti dopo la stipula di un protocollo d'intesa firmato nelle scorse settimane da Amministrazione Comunale, Direzione Marittima e Arta, con l'obiettivo di controllare periodicamente lo stato delle acque. Quello che è il dato batteriologico legato a Enterococchi e Escherichia ci dà un quadro allarmante ma anche conoscitivo di una situazione determinata e cioè che il fiume di Pescara entra nella città di Pescara con un carico batteriologico di 5.000 unità di Enterococchi e 15.000 di Escherichia, quindi entra acqua già inquinata. A Valle del Depuratore la carica batteriologica comincia a spegnersi, abbiamo 4.500 di Enterococchi e circa 12.000 di Escherichia, esce nel mare e abbiamo i tre valori monitorati, via Balilla, via Mazzini e teatro d'annunzio, tutte e tre fuori norma. Abbiamo compreso da questo primo elemento che l'inquinamento viene a monte, non nasce nel mare e che quindi dobbiamo intensificare nelle prossime campagne anche e soprattutto con l'apporto del dato chimico che ci fa capire qual è il dato vero dell'inquinamento, da dove proviene. Con altre due o tre campagne siamo in condizioni di avere un quadro più dettagliato. Andiamo avanti, sempre da Pescara, 4 mesi per trasferire il mercato dei senegalesi, riunione tecnica in comune. Per studiare il trasloco nell'area di via De Gasperi serve una variante al piano regolatore per i lavori. L'ente spenderà oltre 60.000 euro e poi Comune senza soldi garantisce l'assistenza ai malati fino a marzo. Poi parliamo di scuola alberghiero, ecco i soldi. Per aggiustare la scuola ad Alfonso incontra i ragazzi in comune annuncia disponibili 450.000 euro. Andiamo ad ascoltare cosa ha detto il governatore della regione ieri nell'incontro con i ragazzi dell'alberghiero De Cecco. Sono stati trovati 450.000 euro per la messa in sicurezza dello stabile che ospita l'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. A dare l'annuncio in diretta ai ragazzi della scuola che da oltre 10 giorni sono in sciopero è stato il presidente della regione Luciano D'Alfonso che ha incontrato questa mattina studenti e personale docente nell'aula consigliare del comune in occasione di una lezione sull'Europa tenuta dai professori agli stessi ragazzi. Le risorse sia quelle già assegnate, 145.000 euro, sia quelle che assegneremo ad ORAS fanno parte di economie rinvenute di lavori o non fatti o fatti male. Siccome questa per noi costituisce una priorità io sono venuto a comunicare che intanto mi rendo responsabile della copertura finanziaria di un intervento di efficientamento e di messa in sicurezza e su questo mettiamo a riparo la struttura di Pescara. Dopodiché con il comune concordiamo se ci sono terreni idonei per ospitare una nuova struttura scolastica. Terzo, mi preme anche la struttura di Cepagatti in maniera tale che sia una struttura capace di ospitare nuove figure delle professionalità dell'economia agraria. Su questi tre fronti io non solo farò comunicazione ma farò anche festa. Adesso il sindaco mi preciserà come sta procedendo il lavoro di rinvenimento dello spazio e dei terreni. Ho ricevuto adesso un sms dal mio capo segreteria che mi dice che i 450.000 euro sono stati individuati per essere assegnati. Fanno parte di economie rinvenute che verranno dispiegate a favore di queste esigenze. L'alberghiero per quanto riguarda le sue attività formative si trova situato a Pescara e a Pescara rimane. Per quanto riguarda la vecchia esistente struttura. Se il comune vuole una nuova struttura funzionale siamo pronti. Andiamo avanti, siamo alla cronaca di Montesilvano. Musa lo accusa, Maragno le offre ancora la poltrona. Il sindaco rinnova per la seconda volta l'invito ad entrare in giunta. La consigliera dice no e rilancia. Donne, presentate la vostra candidatura. Clima teso in comune, come leggiamo in questo articolo. Non c'è pace dopo il rimpasto. E poi la polemica. Ruggero, esponente del PD, differenziata flop, ma la colpa è del comune. E poi via Verrotti. Parte l'appalto. Gara da 185.000 euro per affidare i lavori. Antiallagamento. Gli studenti scrivono alla professoressa scomparsa. È stata la nostra guida. Folla ai funerali della vicepreside del Dascanio di Marco. Proseguiamo. Siamo a San Giovanni Teatino. Terna, Caldarelli accusa. Quei soldi non ci bastano. San Giovanni Teatino è polemica dopo l'accordo con la società dell'elettrodotto. L'ex sindaco, con il mio protocollo, sarebbero stati interrati i cavi dell'alta tensione. Francavilla, migliorare la differenziata. La Cosvega chiama i residenti. E poi, tornando a San Giovanni Teatino, festa dei cani. Con i veterinari a Manopello. Si è tenuta una cerimonia per ricordare i caduti in guerra. Siamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara. Veleni bussi. Il 30 ottobre l'ok definitivo alla bonifica. Penne ospedale. Assessore minaccia le dimissioni. Mentre per quanto riguarda ancora il centro vestino, variante est. Apre la strada. Attesa 20 anni. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro. Si parla di banche sugli esuberi incarichieti. L'accordo arriva nella notte. Cigelle, Cisluil, Fabbi e commissari decidono sull'uscita di 135 dipendenti. Le condizioni poste dai sindacati. Niente più premi extra a pochi dirigenti. E poi a vasto, finto incidente, falso avvocato. Anziana smaschera il raggiro. Gli erano stati chiesti oltre 4.000 euro perché aveva detto questo finto avvocato al telefono. Il figlio rischiava l'arresto dopo un incidente stradale. E poi la tragedia di Colle di Mezzo. Madre morta. I bimbi lasciano anche il papà. L'autopsia non spiega il decesso della 28enne incinta. Salma e figli tornano in Romania. Siamo alla pagina dell'Aquila del Centro. Il DNA conferma il corpo di Giuseppe. Svolta nel caso Colabrese. Il ragazzo scomparso da Sulmona ad Agosto è trovato senza vita in un bosco in Liguria. Precisamente dalle parti di La Spezia. I genitori dalla speranza alla tragedia. Ora si chiede verità e giustizia. Come abbiamo visto anche nella prima pagina del centro. Si indaga per omicidio. E poi a Sulmona coltella il coinquilino. Dopo una lite ferito il ferito. In gravi condizioni all'ospedale. L'aggressore ha atteso a casa i carabinieri. E siamo alla cronaca di Teramo. Del centro di Gennaro Alvia. Il piano di salvataggio. Il gruppo di Tortoreto ha messo al concordato preventivo. 62 milioni di debiti ai creditori chirografari. Scusate, tocca il 9,29%. E poi il ricorso alla consulta. Sospeso il processo d'appello per il crollo della discarica. E poi in basso da Civitella ad Ascoli. Cena d'autore. Zunica 1880 conquista il noto caffè Meletti. Che si trova in pieno centro ad Ascoli Piceno. Siamo arrivati alle pagine della cultura e poi dello sport. Dunque andiamo al messaggero per vedere in questo caso le pagine. Sempre della cronaca provinciale. Partiamo dalla pagina dell'Aquila. Chi ruba soldi è come chi rideva del sisma. Duro attacco del vice sindaco dell'Aquila Trifuoggi dopo le ultime inchieste. Stupito e dispiaciuto che la città non si indigni. Fatti ignobili. L'ex magistrato chiede una reazione. Considerazioni amare. La mia non è una posizione isolata. Ho ricevuto apprezzamenti. E poi precari. Sindaco è giunta propensi a percorrere la strada della proroga. E poi in basso truffa chiesto il giudizio per la Bellisari per la ricostruzione di un immobile a Pettino. Incriminati anche il figlio e il portiere della casa a Roma dell'Avvocato. Andiamo ancora avanti. Siamo alla seconda pagina della cronaca dell'Aquila dal messaggero. Morosi 11.000 euro al giorno di incasso con i distacchi delle utenze del gas nei progetti case. Ma aumentano i recuperi di introiti del comune. I distacchi intanto proseguono ad un ritmo incalzante. L'Avvocato Corti ha annunciato una denuncia alla procura. E poi c'è il sindaco Cialente che parla della mappatura della nuova povertà. E poi il bando in uscita all'oggi anche per mamme single e non residenti. E poi uffici speciali. I vertici sono a rischio rinnovo. Invece Gran Sasso tutti contro la deputata. E anche in Abruzzo, in particolare a San Vittorino, si piange la scomparsa della giornalista del Tg2, Maria Grazia Capulli. E poi la tragedia del pilota Aquilano morto in un incidente nel Lazio. Oggi verrà effettuata l'autopsia che farà definitiva luce proprio sulle cause della morte del pilota Aquilano molto conosciuto in città. Andiamo avanti. Pagina di Avezzano sul Mona. Non avvertimmo la regione. Qui crolla tutto. Parla l'assessore alla protezione civile di Luco De Marsi. Situazione ancora critica in tutte le zone colpite. Ad Avezzano operai a lavoro per chiudere la voragine che si è aperta all'improvviso. In via Don Minzoni. Dunque ancora problemi in Marsica e in Valle Roveto dopo il maltempo e le alluvioni dei giorni scorsi. Andiamo sul Mona. L'ite tra condomini finisce a coltellate. E poi il suo cane quasi gli sbrana le braccia. Le braccia sempre a sul Mona. Grave una persona ricoverata in ospedale. E poi sempre nella città Peligna raccolta differenziata si estende il servizio. In Marsica a Tagliacozzo furto in una casa arrestata una serba. A Celano elezioni. C'è il ricorso dei 5 stelle. E poi l'ultima notizia che arriva dall'Alto Sangro. Migranti musulmani al funerale cattolico. Siamo alle pagine di Pescara del messaggero. Il mare resta inquinato. Ripartelo di sé. Abbiamo visto il servizio con l'intervista al vice sindaco Enzo Del Vecchio. E poi i controlli. Scatta la caccia agli abusivi. Multe e denunce della Capitaneria. E poi ancora. Eliminare la diga foranea genera un fenomeno al limite del disastro. Lo dice l'esperto, il direttore tecnico dell'Arta Damiani che poi aggiunge ci sono 50 chilometri di fossi interni su cui sono stati allacciati i canali fognari delle abitazioni. E poi tombe dell'epoca imperiare nella zona rampigna Pescara dopo che dagli scavi sono affiorati i resti del forte borbonico. L'archeologo Staffa ricostruisce la storia di tutta l'area. E poi il ricordo Felicetti, 90 anni. E quelle saluto al neo sindaco. Oggi l'onorevole Nevio Felicetti avrebbe compiuto 90 anni. Ancora Pescara dai clochard alla Movida. Gli estremi si toccano nel popolo della notte. Modaiola e malinconica. I due volti della città che non dorme mai. Così nel raggio di pochi metri convivono miseria e trasgressione nella parte del centro storico di Pescara. Da una parte ci sono disperati che dormono all'aperto anche in queste notti in cui il clima comincia a essere freddo. E dall'altra parte i giovani che si divertono proprio nella zona della Movida. E poi la vicenda dell'alberghiero. Il presidente della regione D'Alfonso. L'alberghiero non si muove se serve una nuova struttura. Siamo pronti. Abbiamo ascoltato il presidente della regione nell'intervista rilasciata ieri. E poi la cronaca. Picchiato e rapinato di notte. Incubo a spoltore. C'è stata questa rapina l'altra notte in una casa di un pensionato. E poi Montesilvano. Maragno alla Musa. Firmi entro il 27. Ma la terza quota rosa appare lontana. Sempre Montesilvano. Sta per soffocare. Salvata con il 118. Al telefono. E poi a penne. Con il legno del pino secolare abbattuto. Il comune farà realizzare una panchina. Andiamo ancora avanti. Siamo a Chieti. Parcheggio e caos totale all'interno dell'ospedale. La situazione paradossale del policlinico. E poi i commerci. I conti tornano con il segno. Più assemblea dedicata a Roberto Dorazio. E poi tradizioni e gastronomia. Teatine all'Expo di Milano. Un'altra discarica abusiva vicino all'ex San Camillo. È stata scoperta nei giorni scorsi. E poi viabilità alla strada Acquedotto. È un disastro. Infine la questione che riguarda la Carichietti. Sindacati e Carichietti. C'è il preaccordo sugli esuberi. Lanciano va a Stortona. Panchine come bare. Polemica sui nuovi arredi di Corso Trento e Trieste. Tante proteste. Poi a vasto. Truffa d'anziana. Tuo figlio rischia l'arresto. Servono soldi. Sventata dai carabinieri questa truffa. Sempre a vasto. Del prete. Il sindaco vuole privatizzare il film festival. Questa dichiarazione e la denuncia del consigliere comunale. Vastese. Poi a Dortona. Turismo e commercio. Schiazza si attiva. Incontri per organizzare le feste natalizie e la stagione teatrale. Siamo a Teramo. Di Pasquale cambierò lo zoo profilattico con calma e progettualità. La neopresidente del CDA parla dei progetti. Noi andiamo a vedere il servizio in merito realizzato da Elisa Leuzzo. Dopo le dimissioni anticipate del presidente Arnolfo, nel pomeriggio di ieri, è arrivata l'ufficializzazione del nuovo consiglio d'amministrazione dell'IZS. La regione Abruzzo ha nominato l'avvocato teramano Manola Di Pasquale, per il Molise, Giampaolo Colavita e per il Ministero della Salute, Nicola D'Alterio. L'avvocatessa teramana, ex candidata a sindaco di Teramo per il Partito Democratico, è stata successivamente nominata presidente durante il primo CDA svoltosi in serata nella sede della regione a Pescara. Questo mi fa onore e mi inorgoglisce. Un istituto importante per il territorio, qual è il primo obiettivo? Sicuramente il primo obiettivo è quello di riportare di pacificazione, perché abbiamo visto che in questo periodo, a meno dei giornali, risultava dalle forti conflittibilità fra gli organi. Poi sicuramente è quella di completamento della sede dei laboratori, perché se vogliamo farlo crescere, farlo essere quello che è un importante istituto di ricerca a livello internazionale, deve poi avere gli strumenti per poter operare, e quindi portare avanti sicuramente la realizzazione dei nuovi laboratori della sede. Su questo io so che il presidente Luciano D'Alfonso sta inserendo il progetto del masterplan per il mezzogiorno di Matteo Renzi. Siamo convinti che la potenzialità politica della nostra regione, della regione molise, riuscirà a farlo inserire. E poi sicuramente c'è necessità di rivedere tutti questi contenzioni che ci sono con il personale, perché io credo che il personale dell'istituto sia una delle grandi professionalità e delle grandi risorse, e quindi devono essere comunque conservate e valorizzate al meglio. I rapporti a Bruzzo e Molise come li ha visti in questi anni? Diciamo che il rapporto a Bruzzo e Molise è un ottimo, anche nella scelta della presidenza, so che c'è stato un grande accordo tra i due presidenti, anche questo mi gratifica, ma sicuramente l'istituto profilattico dovrà essere valorizzato con la stessa intensità in entrambe le regioni. Quindi sicuramente potenziare, bisogna vedere come e in quale indirizzo, anche quella parte della ricerca e di studio che è collocata nel Molise. A Corateramo, dalle pagine del messaggero alla Corte Costituzionale, il caso discarica alla torre, poi la cronaca, droga giovane agli arresti domiciliari, operazione della polizia, poi scuole, niente mensa per i bambini delle famiglie morose. E poi in basso, Corso San Giorgio, transennato, negozianti furiosi. Pagina di Giulianova, Roseto, Val Vibrata, Giulianova, la stazione, si rifà il look, lo scaro ferroviario sarà oggetto di un attento restyling a Martinsicuro, Villarosa, casa occupata abusivamente, i carabinieri sgomberano otto, romeni ad Alba Adriatica, ladri nell'abitazione dell'ex assessore Viviani. Tornando a Giulianova, Salinello, il Movimento 5 Stelle interpella il presidente della regione D'Alfonso, ancora Giulianova sulla nuova caserma e bagarre politica, ma l'arma vuole l'ex mercato coperto. Infine Roseto, Fornaciari, dice colpire duro. Chi sporca il territorio al via la campagna contro l'abbandono dei rifiuti, il sindaco Pavone, cartelli e apparecchiature di videosorveglianza. Prima di passare allo sport dobbiamo andare a vedere insieme le pagine del quotidiano La Città di Teramo per vedere in questo caso i titoli che riguardano il quotidiano che esce a Teramo e provincia. Brucchi, Raduna, tutti dopo la scossa, si parla della crisi in comune. Siamo già alla pagina d'Abruzzo del quotidiano La Città. Pescara, mare inquinato anche d'autunno, abbiamo visto il servizio. Poi Montesimano ruba in un discount, scappa in un altro, scoperta tra gli scaffali. Poi Startup, l'Abruzzo protagonista allo Smau di Milano, grazie a Digital Borgo. Proseguiamo il caso della BPS. Noi sotto inchiesta per un'offerta a Patacca, il presidente Tercas difende il corretto operato dei commissari di Banca Italia nel commissariamento di BPS. Poi Popolare di Bari diventerà una S.P.A. ad ottobre del 2016. Proseguiamo la cronaca, ragazzina descata da un pedofilo su Facebook. La Terramana è tra le vittime di un 47enne di Piombino, rinviato a giudizio per molestie sessuali alle minori. Andiamo ancora avanti, siamo a Teramo. Brucchi riunisce i suoi dopo lo strappo di AN. Martedì vertice di maggioranza per fare il punto dopo l'abbandono dei fratelli d'Italia. Micheli e sbraccia. Vediamo il servizio che fa proprio il punto della situazione dopo le ultime vicende in comune a Teramo. A Teramo la maggioranza consigliere perde due pezzi e da 21 passa così a 19. Un annuncio che arriva durante la seduta del Consiglio Comunale svoltasi ieri mattina. Il gruppo di fratelli d'Italia, composta da Raimondo Micheli e Mimmo Sbraccia, lascia la giunta a Brucchi. Una decisione che i due consiglieri motivano così. Già da tempo non potevamo sopportare più questo comportamento di questa giunta venendo a sapere i provvedimenti tramite quotidiani o varie. Credo che il progetto politico iniziale forse si è perso un po' per strada. La destra sociale che noi rappresentiamo a volte negli atti di questa amministrazione non viene neanche ascoltata. Sui temi sensibili come quella dei disabili, sulla attività che si svolge all'interno delle situazioni socio-economiche difficili che tutti quanti non possono non conoscere in questa città. Dobbiamo affrontarle assieme. Sulle progettualità, sul grande sviluppo socio-economico che questa città deve avere, deve riprendere nel più breve termine possibile. È possibile anche, chiedo scusa per il gioco di parole, a volte anche coinvolgere il nostro partito. Questo è stato disatteso. Bisogna cambiare rotta. Attualmente non vedo questo cambio di rotta. Scendiamo da questa nave, andassero avanti per i fatti loro. Le scelte che noi andremo a fare da qui in poi saranno scelte dettate non dal rancore, ma da un'analisi attenta di ciò che ci viene presentato di volta in volta. E quindi il nostro appoggio è condizionato. Alle riunioni di maggioranza qualcuno ha detto che voi non partecipavate, è vero? Le riunioni di maggioranza abbiamo partecipato sempre, tranne le ultime, quando ci siamo accorti che forse il menu era già stato predisposto e gli ingredienti erano già stati inseriti da altri. Io credo che le riunioni di maggioranza debbano essere il punto di incontro, di dibattito, di confronto e anche a volte di scontro. Se la riunione di maggioranza è portare un piatto freddo già servito e preparato da altri, beh, io a queste riunioni di maggioranza non ci sto. Ottimista sul futuro e certa che a breve si troverà una soluzione condivisa da tutti, il vice sindaco Mirella Marchese. Sono veramente molto fiduciosa perché parliamo di amici della stessa coalizione, che stanno insieme per il bene della città. Quindi sono sicura che nei prossimi giorni sicuramente ci si siederà attorno ad un tavolo e sicuramente si troverà la soluzione per uscire da questo momento che è un po' difficile. Ancora a Teramo, la torre, gli imputati sperano nella prescrizione. Sospeso il processo d'appello è chiesto l'intervento della consulta sui termini del disastro colposo. E poi detenuti anche Brunetta appoggia Rita Bernardini, garante subito. Proseguiamo, nomine con polemica al CDA dell'Istituto Zooprofilattico. L'avvocato Manolo Di Pasquale, il nuovo presidente dell'Istituto, adesso la Regione, deve nominare il direttore. Abbiamo ascoltato pochi secondi fa nell'intervista di Elisa Leuzzo, il neopresidente dello Zooprofilattico. E poi il caso, risposte lacunose su Teramo Ambiente dalla segretaria Scaramazza. Il caso, la consigliera Cardelli studia il PEF. Ancora avanti, l'EPD giunta divisa sulla piscina acquaviva. D'Alberto contesta il bando per l'affidamento della struttura. Inefficienze, tutte a carico dei cittadini. Commercianti traditi dal cantiere del corso, le associazioni di categoria accusano il Comune di non aver rispettato i patti. Così è troppo invasivo e blocca i negozi. Proseguiamo, Provincia, Salinello, lavori interrotti senza un motivo. Riccardo Mercante lancia l'allarme sul torrente. Sbloccate i fondi prima dell'arrivo della brutta stagione. Ancora avanti, Val Vibrata, svaliggiata la villa di Gabriele Viviani, il politico di Alba Adriatica. Si è trovato faccia a faccia con i malviventi. E poi Martinsicuro, sgomberata una casa occupata abusivamente. Cronaca, operaio morto, il giudice assolve l'imprenditore Guido Strappelli. E poi ladri anche nel municipio di Torano Nuovo. Carabinieri, ultimatum a Mastro Mauro. I carabinieri chiedono una soluzione per la caserma entro tre mesi. Il sindaco dice che non c'è più tempo da perdere, altrimenti qualcuno dovrà prendersi le proprie responsabilità. Sempre a Giulianova, vacanze sicure grazie al progetto di comune Asle Croce Rossa. E poi il PD si prende i meriti per la pulizia dei parchi. Chiesto che la vigilanza venga estesa anche al quartiere dell'Annunziata. Siamo a Roseto, il problema di scariche è risolto con un cartello. Un'amministrazione Pavone presenta il piano di sensibilizzazione. Annuncia l'arrivo di telecamere per la sorveglianza. Siamo alla pagina della cultura. Il principe della risata è tornato. Le caricature di Melchiorre De Filippis Delfico in mostra all'archivio di Stato. Si formò con Della Monica e fu amico di Verdi. Prese in giro, notabili e politica. Vedete questa pagina che riguarda l'Università di Teramo. Quella di ieri è stata una giornata importante. La sclocco, assessore regionale, battezza i 28. Nuovi dottori, c'è stata la cerimonia per le nuove lauree all'Università di Teramo. Siamo allo sport, tonti, parliamo della Teramo Calcio, servono fame e cattiveria. Il portiere scuote il Teramo e dice non basta essere belli, ci vuole di più. E a proposito di sport andiamo a vedere le pagine del centro e del messaggero. Partiamo dal quotidiano il centro per andare a vedere le notizie che riguardano proprio le nostre formazioni. Parliamo di calcio del Pescara, Mandragora, l'amuleto sulle orme di Verratti. Oddo è un maestro con il 18enne in campo. I biancazzurri non hanno mai perso. Pronto per le big Juve e Chelsea come il folletto del Paris Saint-Germain. Troppo professionale. Gianluca Colonnello esonerato in Grecia. Terminata in anticipo l'avventura dell'ex biancazzurro nel paese ellenico. E poi di Massimo Juventus, domani il matrimonio, il bomber firmerà un quadriennale. Ora il Pescara pensa al prestito e anche il Paris Saint-Germain si è informato di Massimo. Promessa dell'Avezzano Calcio. E poi c'è il Brescia per Paghera, il derby del cuore, il centrocampista del Lanciano e Bresciano Docche. Ed è cresciuto nelle rondinelle. E poi Serie D, Giorgini, Fuorirosa, non rendevano. L'allenatore del Giulianova ha messo alla porta quattro calciatori che sono stati messi fuorirosa proprio per scarso rendimento. Ne abbiamo parlato anche ieri. Il Teramo è nelle mani di Tonti, deluso per il K.O. Ora vinciamo. E dunque ci sono le dichiarazioni del giocatore Teramano. Infine il volley. Sieco impavida, rinnovata, obiettivo tra i primi quattro posti. Parte il campionato di Serie A2. Il coach Nunzio Lanci dice che è il campionato più duro. Noi cambieremo tipo di gioco. Siamo in chiusura con le pagine dello sport del messaggero. Mandragora, il predestinato, il diciottenne centrocampista ha già stregato il Pescara. E poi Paghera, Brescia, la mia partita. Il Teramo, Vivarini fa esperimenti e prova il 4-4-2. L'Aquila presenta i suoi nuovi sponsor. Ieri vi abbiamo, a tal proposito, fatto vedere il servizio nel nostro TG6. E poi motociclismo, l'ottimismo di Iannone. Assepang con fiducia. E poi il basket, basket di Serie A2. Galli, Progerchieti, niente sogni. Il futuro si chiama Imola. Siamo in chiusura a proposito di sport. Vi ricordo che domani sera si giocherà l'anticipo di campionato allo stadio Adriatico alle 19. Il Pescara ospiterà la Provercelli. È tutto per l'edizione odierna di Mattino 6. Grazie, come sempre, per averci seguito. Vi ricordo il primo appuntamento con il TG6, come sempre, alle ore 14. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.